I timori per la salute della regina sono stati riaccesi dopo che un'immagine scioccante della monarca sembra mostrarla fragile. L'immagine è stata rilasciata da Buckingham Palace dopo che la regina ha partecipato a un incontro con il governatore dell'NSW Margaret Beasley giovedì 25 giugno. L'immagine mostra la regina in piedi accanto a Margaret Beasley con un abito floreale giallo brillante e una collana di perle, ma la fotografia ha suscitato preoccupazione poiché sua maestà appare notevolmente più fragile. È stata scattata nell'Hook Room del Castello di Windsor, dove la regina ora vive a tempo pieno. Scrivendo per news.com.au, Daniela Elser, un'esperta reale, ha dichiarato, quello che colpisce qui è l'aspetto molto preoccupante di sua maestà. Guarda lo scatto della regina di giovedì e poi confrontalo con una foto scattata quasi esattamente un anno fa, quando l'allora primo ministro Scott Morrison fece visita, e la differenza è davvero sorprendente. Elser ha paragonato l'immagine recente a una simile in cui indossa anche un vestito giallo brillante e perle, osservando che, nei successivi 12 mesi, sua maestà sembrerebbe essere diventata notevolmente più curva, molto più magra e nel complesso sembra essersi ridotta. La regina, 96 anni, ha suscitato per la prima volta problemi di salute all'inizio di quest'anno quando si è ritirata dall'apertura del Parlamento Statale a causa di problemi di mobilità in corso. Da allora, sua maestà si è ritirata da una serie di apparizioni pubbliche, con altri membri dello studio, tra cui il principe William e il principe Carlo, assumendosi responsabilità extra per suo conto. Durante il fine settimana del giubileo di Platino, la regina si è ritirata dal servizio di ringraziamento alla cattedrale di Stipol, così come dall'Epsom Derby. Grazie. 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 Grazie.